buongiorno voglio questa mattina parlarvi del 7 ottobre che è una bugia il 7 ottobre è una bugia hamas è stato creato da israele finanziato dal tatar su richiesta di israele e armato da israele prima del 7 ottobre israele era a conoscenza di ciò che hamas stava progettando e ha ritirato il suo esercito dal confine di gaza per consentire ad amas di agire senza alcuna resistenza si è trattato di una trappola tesa da israele come pretesto per distruggere gaza e sterminare la popolazione non ebraica come richiesto dalla bibbia netanyahu l'ha affermato alla televisione israeliana ricorda cosa che ha fatto amalek un chiaro incitamento al genocidio il risultato è questo sterminio di 14.000 bambini palestinesi e i numeri continuano continuano a crescere ecco dunque la bugia del 7 ottobre buona giornata